E dall'arte terzi Corea all'arte del bel canto. Primo classificato al concorso Nuovi talenti dello spettacolo condotto da Daniele Piombi nel 1991. Voce solista e interprete unico in numerose eventi di rilievo nazionale e regionale. Artista ospite alla trasmissione di Ray Uno, ci vediamo in tv condotta da Polo Limiti nel 2002, particolarmente sensibile a manifestazioni di solidarietà e beneficenza come in questo caso. Voce solista nel cd inediti napoletani di prossima uscita. Signore e signori è un momento di vero lirismo musicale con Abele Leonardo il quale interpreta la voce del silenzio di Paolo Limiti. Abele Leonardo Volevo stare un po' da solo per pensare a te lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornano a vivere troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio? Mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei direi una voce. Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. non avevi perso mai. E non avevi perso mai. e non avevi perso mai. E credo che mi manda dal mare del silenzio mi manca assai molto di più. ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei direi una voce. Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che... tu non avevi perso mai. non avevi perso mai. non avevi perso mai. non avevi perso mai. sono molto sensibile a queste cose anche perché penso che l'arte che viene dal cuore è legata a tutte queste cose. Quindi credo che un artista dovrebbe prima cosa ringraziare per questo dono bellissimo che ci viene dato e utilizzarlo per far felice agli altri. Perché nel mio piccolo posso aiutare gli altri così. Tu hai una grande voce e una grande umiltà. Grazie. Grazie. In bocca al lupo. Grazie.